buonasera a tutti eccoci qua equilibrio comunità senso di famiglia e istituzione ho pensato che questo è una famiglia e comunità io le metto insieme con istituzione questi questi due aspetti sono ho potuto osservare che ultimamente poi se l'abbiamo visto anche tutti sono completamente spasati e si sono completamente sbilanciati e allora ho pensato che per me era molto importante capire facendo un percorso spirituale o comunque portando avanti ognuno le proprie i propri sistemi sia istituzionali che di famiglia che di comunità cosa era opportuno vedere osservare per capire proprio su cosa mi stavo indirizzando perché adesso c'è molta confusione su su questo sull'aspetto della comunità tanti stanno cercando di creare delle comunità si stanno aprendo delle nuove svolte che comunità non è che vuol dire creare un sistema come poteva essere precedentemente e così anche lo stesso sistema familiare non è è cambiato quindi si una volta si si segue si seguono degli schemi prestabiliti e quindi questo un po ci confonde nei nostri valori più profondi e anche l'istituzione allora io intanto volevo guardare perché sempre vado a vedere quelli che sono il significato della parola perché è importante allora diciamo nel nostro vocabolario italiano la comunità significa sono andata a a guardare e allora la comunità è un insieme di persone aventi in comune origini tradizioni lingua e rapporti sociali in modo da perseguire dei fini comuni quindi c'è la comunità familiare il nucleo familiare cioè un organismo unico sulla base dei rapporti familiari sociali oppure economici che quindi racchiude anche l'istituzione mentre famiglia questo mi ha stupito perché famiglia in origine dal latino vuol dire servitore e domestico cioè deriva dall'insieme di schiavi e di se di servi viventi sotto un stesso tetto cioè che stavano tutti insieme poi successivamente questo è diventato il sistema familiare nel singolare diciamo espressione più singolare di oggi ma in senso più ampio appunto comuni anche come comunità umana e qui dice in genere formata da persone legate tra di loro tra un rapporto di convivenza di parentela di affinità che costituisce l'elemento fondamentale di ogni società quindi famiglia comunità e cominciamo a vedere anche istituzione un altro aspetto poi infatti è la dinamicità delle istituzioni allora che vuol dire l'insieme di regole enorme fondanti un istituzione che non è immobile nel tempo esso è continuamente ritrattato e modificato attraverso le trasformazioni sociali come per esempio il linguaggio dei nostri nonni è completamente diverso dal relazionarci oggi dal nostro linguaggio di oggi ma anche dal mio stesso con i giovani è un linguaggio diverso e invece cosa si intendiamo per istituzione cioè cosa si intende in generale per istituzione il termine istituzione deriva da istruire no da istituire che vuol dire stabilire un ordine fondare regolare e può avere molti significati talvolta è usato per indicare un gruppo organizzato che segue un particolare scopo in maniera sistematica seguendo determinate regole e procedure questo è quello che dice nel sistema nella spiegazione italiana però io io dico che ora io ho notato che non è possibile essere così sistematici cioè vuol dire essere così inquadrati in questi aspetti perché è un aspetto molto importante comunità famiglia istituzione perché in ogni contesto contiene tutte e tre anche se faccio un percorso spirituale anche se sono all'interno di una famiglia anche se sono all'interno di un nucleo considerato comunità comunità quindi comunità in un senso è senso della famiglia ma che cos'è che cos'è una comunità è un senso della famiglia io me lo sono domandato perché cosa significa il senso della famiglia soprattutto in questi tempi che in cui siamo tanto confusi è tutto è molto disconnesso è tutto molto squilibrato c'è un po di confusione anzi forse anche tanta confusione quindi questa capacità di comprendere effettivamente cosa significa per me un senso di famiglia e posso uscire da questi schemi cosa significa per me un senso di famiglia perché io per tanto tempo abbiamo pensato che il senso di famiglia deve andare in un certo modo poi abbiamo pensato che non va bene che vada in un certo modo come era una volta no è diverso nel senso di famiglia un altro quindi però però ricordiamo i vecchi sistemi di famiglia e allora vuol dire che c'è qualcosa che non è equilibrata quindi infatti succede conflitti soprattutto ora all'interno di una famiglia all'interno di una comunità all'interno di un'istituzione quindi all'interno di una comunità sono guerre conflitti manipolazioni all'interno di una famiglia sono incomprensioni scontri allontanamenti cioè proprio divisioni dolore sofferenza attaccamenti aspettative e in un sistema di istituzionale invece succede che si va come una fede cieca e quindi l'istituzione l'istituzione e quindi si va con i paraocchi no per sostenere quelle istituzione che tutto tutto questo non è sbagliato cioè non è che non va bene va benissimo quindi cos'è veramente il senso di famiglia io me lo devo domandare ora e io credo che appunto non si può essere sistematici io ho pensato che per creare un senso per capire per me cos'è un senso di famiglia ho bisogno forse di ripartire da un sistema di comunità che non è la comunità degli IP non è quella comunità che quella era l'inizio di un qualcosa di molto valoroso perché cambiava completamente un sistema che voleva essere integrato dell'amore dell'essere uniti ma in quel contesto ha creato un grande un grande caos e non è quello riportare quel sistema che è senza regole non ha regole e e non va bene perché ci devono essere delle regole e ci deve essere un senso di famiglia che vuol dire essere empatici vuol dire sostenersi e allora non vuol dire avere una libertà estrema cioè avere una libertà estrema vuol dire che io abbatto te per avere la mia libertà estrema e quindi no non è possibile cadere in un sistema egoico in nome della libertà allora devo riagganciarmi al vero atto di comunità per restabilire questo senso di famiglia vedo più come una comunità ora per capire cos'è un senso di famiglia cioè uno sostiene l'altro nei propri bisogni e per far comprendere questo per me è stato utile e adesso la prendo una intervista che è stata fatta a a una antropologa che si chiama margaret mead e e se io ti dicessi che il primo segno di civiltà no è stato un femore rotto e guarito grazie alla presenza degli altri perché durante una lezione e adesso io lo leggo leggo l'intervista durante una lezione tenuta dall'antropologa margaret mead un suo studente le chiese quale fosse secondo lei il primo segno di civiltà di una di una cultura il ragazzo così come i suoi colleghi si aspettavano che menzionasse le armi le pentole o le macine di pietra tutte cose relative alla prima sopravvivenza e invece margaret mead diede una risposta del tutto inaspettata che sicuramente ha aperto tutta una serie di riflessioni che si protagono fino ad oggi e questo è lo scopo nel condividere con voi con tutti noi questa questa intervista perché a me ha fatto riflettere ed è perfetta l'antropologa infatti rispose che il primo segno di civiltà di una cultura era un femore rotto guarito poi grazie alla presenza degli altri l'insegnante per spiegare la sua teoria fece un paragone con il regno animale quando un lupo o qualsiasi altro animale si rompe una gamba muore la possibilità che sopravviva affinché l'osso guarisca da solo sono improbabili non può andare al fiume a bere o girovagare per cercare da mangiare è immobile e in balia del destino e probabilmente diventerà il cibo di altri predatori un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con colui che è caduto ne ha bendato la ferita lo ha portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi quindi scheletri con i femori fratturati qui dice nell'intervista che risalgono nella sua lezione risalgono fino a 15 mila anni fa e suggeriscono che non solo le persone con il femore rotto sono sopravvissute all'infortunio ma che altre forse amici o famiglia hanno probabilmente rischiato la vita per proteggerli per prendersi cura dei loro bisogni per margaret mead il primo passo verso la civiltà è un atto di compassione di compassione umana e diventa il fondamento di tutte le grandi conquiste dell'umanità aiutare qualcun altro in difficoltà è dove inizia la civiltà cosa ne pensate addirittura ora nell'arco per esempio cioè il rapporto uno a uno nell'arco per esempio quando uno è un bambino fino ai tre forse quattro anni comunque deve avere un rapporto uno a uno cioè perché è inconsapevole serve il nutrimento deve avere un punto di riferimento qualunque esso sia come persona dove sa che può avere quel sostegno quindi se non si sviluppa questo rapporto uno a uno che capisce anche praticamente i suoi bisogni più interiori perché un bambino piccolo non può esprimere ciò che le serve interiormente anche come calore come affetto non lo può però c'è chi provvede a comprendere questo perché capiamo di che cosa bisogna un bambino di solito e quindi se questo bambino nelle primi anni di vita non ha avuto questo punto di riferimento qualunque esso sia addirittura va come andando avanti entra in un sistema anche di letargia fino al punto anche di lasciarsi morire interiormente cioè e qui è chiaro che incomincia a creare tutte le forme emozionali che poi uno si porta da adulto e questa è anche una nuova adesso con la nuova psicologia con tutte queste cose stanno rivedendo dei testi scritti nel 1800 scritti in un tempo molto indietro come l'antropologa qui fa cenni di riferimento a una civiltà che noi la vediamo come un qualcosa di vecchio di che dici mamma mia cioè invece aveva i valori più forti più potenti che ne stabiliscono il vero senso della vita il vero significato della comunità il vero significato della famiglia il vero significato di un istituzione cioè l'equilibrio per poter sostenere andare avanti e questo ha a che fare con con il con il percorsi con la comprensione del proprio sé bisogna vedere cosa cosa io sto sostenendo quindi questa era diciamo l'intervista e che mi ha fatto tanto riflettere no quindi essere sistematici non è una cosa ottimale ora cioè seguire un sistema a spada tratta si fa così si fa tante cose stanno cambiando io le vedo cioè da un anno all'altro anche in un sistema scolastico cambia tutto da un anno all'altro in un sistema lavorativo cambia tutto da un anno all'altro le modalità di pensiero cambiano e allora non posso più essere sistematica se voglio veramente riportare un equilibrio soprattutto interiormente e in particolare in queste tante offerte che ci sono adesso sul mercato sul web queste offerte proprio di percorsi spirituali di dove ora molti magari pendono più o tendono di più anche in un percorso spirituale a sostenere un istituzione o magari perché vanno appunto perché c'è ci sono delle formule quindi no la regola è questa bisogna fare così e allora bisogna fare questa tipa di pratica e si va avanti così però bisogna sempre arrivare a guardarsi dentro perché il percorso spirituale è finalizzato in primis alla trasformazione a far riemergere il proprio sé cioè a cambiare tutti i modelli a cambiare tutte le nostre credenze tutte le nostre emozioni tutte le nostre ferite tutto ciò che tiene questa energia molto bassa che chiamiamo sanscara no tutto ciò che abbiamo acquisito ora durante e anche precedentemente nelle nostre vite anche passate e quindi devo ora capire che cosa sto proiettando in un futuro perché il prossimo futuro è un cambiamento energetico dove va risollevato e rimesso in equilibrio esattamente questo nuova era e questa nuova era ha un lungo periodo di equilibrio e se io non porto l'equilibrio riportando una verità all'interno di me cioè io sono utile nel sistema umanitario e universale e mondiale sono utile quindi se io mi sento più a mio agio nel seguire un sistema istituzionale anche all'interno di un percorso spirituale va bene l'importante che io sia onesta con me stessa che sto bene se invece sento che sto andando troppo su quel quell'aspetto cioè quel quel percorso quella modalità mi chiede di 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 andare oltre quello che è la mia capacità o il mio sentire e mi serve più invece avere una modalità più di famiglia più di cuore più di comunità che è più affine a quello che sento e allora io me ne devo accorgere pur continuando quello ma capire su su che dove dove io posso non fluttuare ma dondolare dolcemente nelle acque appunto della vita e di tutto quello che si presenta quindi perché comune famiglia istituzione sono complementari tra di loro ma lo dice anche nel vocabolario che un istituzione è in continuo cambiamento ed ecco così continuo cambiamento una società e così in continuo cambiamento una famiglia ma qui stiamo riportando per un lungo periodo di tempo un sistema di equilibrio in questo sistema di equilibrio se io ci voglio essere devo riportare una modalità di equilibri perfetto equilibrio nel sé qualunque sia la pratica che io voglia o che sento di seguire e che a un certo punto segue a un certo punto preferisco un'altra modalità perché anche noi stiamo in continuo cambiamento e a volte velocemente perché cos'è che ci fa cambiare a noi velocemente le situazioni che arrivano anche dall'esterno e ciò che deve emergere dall'interno quindi l'osservazione la la meditazione altro non vuol dire che osservarsi non è tanto delle almeno nel raggia yoga qua non è tanto pratiche particolarmente rigide per quanto mi riguarda quindi io non devo avere paura dei dei giudizi da parte di percorsi spirituali o dalle istituzioni io devo ascoltare devo imparare ad ascoltarmi questo è il momento di fermarsi che è partito già da un periodo precedente proprio per potermi osservare esternamente osservare internamente ascoltarmi cioè aprire una visuale diversa per questo anche il distacco spirituale importante non essere coinvolti riuscire non essere coinvolti nelle situazioni in modo che ho la capacità di ascoltarmi di sentirmi di conoscermi di vedermi di esprimermi di sentire qual è quel bisogno quindi devo essere me stessa questa è la richiesta del percorso spirituale capire la mia parte in questo in questo contesto di comunità qualunque io vado a scegliere qualunque mi senta più indirizzata o comunque che fa parte anche voglio dire delle persone che circondiamo intorno oppure di famiglia oppure di istituzione cioè capire e vedere me stessa e non quindi farmi condizionare da non farmi condizionare da dei schemi prestabiliti che magari in me sentono il bisogno di cambiare di modellarsi di rivedersi e poi reintegrarsi nuovamente perché noi siamo anime siamo spiriti siamo dentro un corpo per relazionarci con noi stessi con noi stessi con il contesto intorno con la natura con il mondo animale con l'universo con il divino che c'è in me c'è la mia parte più divina che sono io e se l'anima e il divino l'anima suprema l'energia suprema che è lì per riconnettersi cioè per fare in modo che noi riusciamo a riconnetterci a questa consapevolezza e riconoscerci come entità spirituale però devo riformare veramente fare spazio quindi uscire da da tutti questi informazioni e tutte queste credenze che pensiamo che una società deve essere così e così perché è così ora non è perché così ora non vuol dire che io non possa vedere delle cose o non vuol dire che io possa ristabilire dentro di me quello che mi va bene e quindi è che non mi va bene e fare delle scelte in accordo con coraggio con determinazione per valorizzare il mio proprio sé la mia autostima per valorizzarmi per esserci e quindi questo è importantissimo quindi ciò che io credo come pensiero per esempio di che di fronteggiare qualcosa no e cioè di dire beh questo no non mi sta più bene così cioè no e riportarmi a una linea più giusta per me io posso solo saperlo se lo metto in atto se è stata la cosa giusta o non giusta comunque tornerà indietro avrà una sua espressione cioè la sua espressione sarà come la comprensione della stessa esperienza che io ho messo in atto magari dicendo no questo non lo faccio questo non mi sta più bene mi sento che mi sto nutriendo o preferisco più avere un sistema comunitario in questo modo o una famiglia che che abbia determinati valori e che siano più affini facili e compatibili come idea di pensiero e di sostegno per per me stessa per gli altri per l'umanità e per un'istituzione e quindi ciò che che io sento giusto è importante che io lo esprima e se questo esprimere me stessa e i miei bisogni non risuona nel contesto in cui in cui penso di essere in in cui sto seguendo in cui nella famiglia nel contesto comunitario o istituzionale se quello che esprimo non viene diciamo non risuona non viene compreso appunto che sia famiglia comunità o istituzione va bene ma ciò significa che devo osservare su quale linea su quale linea mi sento più conforme cioè non c'è niente di giusto e sbagliato non posso accusare gli altri ma solo comprendere che che io posso modellarmi cambiare e accettare accogliere ciò che io sento come mio bisogno cioè devo ascoltarmi devo vedere il mio sentire perché in un istituzione per esempio io personalmente come anima capisco che ci devono essere capisco che ci devono essere delle delle linee guida delle delle regole e io essendo stata una libertina una ribelle diciamo ho seguito veramente con con determinazione certe linee certe modalità in maniera anche abbastanza rigida per me ed è stato un bene perché è un bene perché comunque in quel momento mi serviva quello quel momento mi serviva quello per equilibrare qualcosa e quindi mai dire io la penso così punto e basta noi siamo quello che pensavo ieri oggi posso pensarla diversamente ed è una capacità bellissima enorme spirituale di ogni essere umano mai dire ma però prima tu la pensavi così adesso la pensi diversamente sì sì perché siamo in cammino e allora posso anche dire sai che c'è pensavo che quella strada così tortuosa l'ho fatta bene con facilità però adesso faccio fatica perché ho bisogno di camminare sul morbido è un esempio no è un'ipotesi e sì prima dicevo così che tutti dovevano fare un po questo che è difficile certo i percorsi sono di trasformazione sono i più dolorosi e forse più complicati non forse tolgo anche forse ma ci dobbiamo modellare dentro queste queste prove perché stiamo ripulendo perché stiamo riequilibrando e allora e immaginiamo di essere come proprietari di una vecchia come si chiamavano una volta queste drogherie c'era scritto drogheria fuori e avevano quelle bilance proprio con i pesi a per me era una passione tutti quei pesetti me ne volevo comprare una addirittura perché ce le hanno gli orafi ce li hanno proprio quelle bilance con i due pesi e le misure che hanno proprio i pesetti anche piccolissimi che hanno 0,000 0,5 grammi non lo so e allora noi stiamo facendo questo è chiaramente ci vuole la capacità la determinazione la pazienza di stare lì a pesare questi nostri equilibri e man mano che prendiamo queste capacità si innalzano il sé l'energia divina l'energia regale dell'anima con le sue qualità si emerge quindi dopo diventiamo sempre più capaci perché il terzo occhio quello che vede l'invisibile si connette con l'invisibile e quindi abbiamo la capacità di vedere oltre questi tre aspetti del tempo il passato il presente ciò che sono e ciò che porterò avanti e capire come andrà a finire come lo porterò avanti questa è la bellezza e se mi diventerà sempre più facile diventerà sempre più io sarò più leggera quindi io mi sentirò più serena più vera come stessa e allora è un gioco di equilibri comunità famiglia comunità famiglia è uno e istituzione è l'altro equilibrio quindi i giusti pesi quindi io stessa appunto ho cambiato questo questo principio no quindi ciò che credevo prima adesso l'ho modellato quindi seguo sempre una linea però modellandola quindi in un istituzione che magari ha delle regole che sono sempre quelle che va bene però non è cioè deve essere così cioè non si è modellata trasformata integrata nel contesto di comunità e famiglia io ci posso arrivare fino a un certo punto personalmente oltre se sento che è squilibrato non posso andare avanti quindi ok fino a lì ci sono oltre no mi serve un sistema più empatico quindi cosa bisogna fare quando succede questo cosa è che bisogna fare io devo incominciare a ricreare le nuove basi io personalmente ognuno di noi il lavoro spirituale è ricreare le nuove basi perché io comprenda che cos'è per me è una famiglia ma profondamente quali sono i valori quali sono le condizioni che per me sento che che siano giuste in questo momento determinato della propria vita o dalle proprie circostanze che arrivano dalle cose che per ognuno di noi sono diverse cos'è questo ricreare dentro di me questo senso della famiglia senza pensare babbo mamma no che cos'è per me il senso della famiglia cioè come 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 gestire questa modalità comunità comunitaria e nello stesso tempo istituzionale no quindi io anima ancora lo devo capire bene io lo devo capire bene nel suo valore più puro ed equilibrato perché non lo posso sviluppare in un contesto che è squilibrato a una comunità una famiglia e un istituzione noi tutti penso che abbiamo in queste nostre vite io sono forse un po più grande di altri ma io sento e osservo perché poi mi si rispecchia diciamo un po le persone mi fanno capire che c'è un totale squilibrio nella famiglia un'incompressione totale perché siamo ai saldi karmici siamo i nostri legami quindi c'è tanto conflitto e allora non si capisce più no invece di star bene dentro una famiglia si sta male poi si fanno le cose di star bene giusto per dire no siamo una famiglia unita no però tutto lo sporco tutto rimane all'interno di per sé non funziona così non è creando un sistema di chiusura o di omertà che posso ristabilire all'interno di me il vero valore della famiglia è così riuscire anche a vedere come realmente in che in che realtà io vivo in che realtà io sono che realtà sto sostenendo perché se sto in una famiglia di folli e io faccio finta di nulla sto sostenendo karmicamente la responsabilità di sostenere dei folli di cui andranno a disfare un sistema perché o siamo tutti folli o se no altrimenti non va bene e allora se io sono divento consapevole di questo quindi qual è io devo ricreare all'interno di me questi veri valori che sento e quindi devo sviluppare dentro di me riportare come riesco i pezzetti di un equilibrio e poi donarli allora a quel punto a quel punto io sì che posso capire e sperimentare una comunità voglio dire ecco che cos'è per me una comunità quali sono le le figure che vanno bene per questo dov'è che mi sento ci sono persone che stanno bene in una comunità molto grande ci sono altre che dicono io preferisco una comunità molto piccola l'importante che abbiamo gli stessi perlomeno le stesse linee guida e perché sono altrimenti non funziona diventa un istituzione si segue allora sto sostenendo un istituzione anche se è una comunità si chiama comunità anche se si chiama percorso spirituale ma tutta la nostra vita è un percorso spirituale perché questo è il percorso dell'anima ognuno di noi c'è il proprio quindi devo far emergere ciò che veramente io sento come deve essere per me un sistema di famiglia quindi lo devo riconoscere perché magari ho vissuto in un contesto familiare che che era completamente diverso dai valori che ora sento da cosa ho capito ma di me da cosa vedo fuori ma è che cosa che impatto ha su di me e così incomincio applicare cioè a ristabilire a ritenermi stabile sulle mie scelte a prescindere da chi abbia intorno per questo va riequilibrato il sistema familiare comunità e istituzione va assolutamente riportato in equilibrio quindi comunità e famiglia li metto in un unico seme e istituzione nell'altro perché se no altrimenti si sviluppa sempre lo stesso e unico sistema patriarcale e questo sistema va eliminato è una legge è una legge e in molti contesti di percorsi spirituali sono patriarcali anche sotto certi aspetti sono molto patriarcali perché comunque sostengono in primis un'istituzione che ripeto ci sono le anime che è giusto che hanno quella parte lì ma se uno riconosce che io mi trovo bene nel sostenere un'istituzione bene vai avanti vai avanti ma se io non mi trovo bene a sostenere un'istituzione perché mi sento affaticata o perché in circostanza della vita non ho bisogno di seguire qualcosa solo così a fede cieca ma ho bisogno magari di essere compresa e ho bisogno di calore ho bisogno di di far emergere altre cose ho bisogno di cuore ho bisogno di ho necessità di questo per allora se ritorniamo all'intervista e gli altri dovrebbero provvedere a diventare empatici perché altrimenti soltanto istituzione non siamo empatici se non è equilibrato perdiamo di essere empatici se è troppo di cuore perdiamo uguale uguale se non usciamo dei ruoli perdiamo uguale bisogna distaccarsi per vedere come andare avanti per il proprio sé questo periodo storico più importante e sono contenta di doverlo dire di doverlo esprimere personalmente è proprio quello nonostante tutto quello che c'è nonostante tutto quello che mi può essere sul mercato spirituale pagamento non pagamento tutte le cose costellazioni tutto 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 che se ne parla tanto la nuova psicologia la psicologia facile e adesso si parla di emozioni ma quando mai in un percorso spirituale si parlava di emozioni io ne parlo da almeno dieci anni che vanno unite insieme con una capacità amorevole cioè sempre riferito alla delicatezza dell'anima alla delicatezza del nostro sé ma se io non guardo e non faccio emergere le mie ferite che quelle che non ricordo perché da 0 a 3 4 anni vanno nel subconscio quindi ho un buio totale cioè c'è proprio una negazione ma la vita ci porterà delle situazioni incomprensibili proprio per farci ricco riemergere quei ricordi offuscati per quella a volte il percorso spirituale aiuta ma anche se vedo che ho delle difficoltà proprio che sento come forti emozionalmente è anche bene farsi aiutare per avere anche una comprensione nei corsi Raja Yoga è molto interessante che vuol dire imparare a meditare che vuol dire imparare a vedere che tipo di energia sto buttando fuori con i miei pensieri a vedere che cosa sto seminando dal pensiero al karma a capire che tipo di circuito come un disco fa l'anima da evoluta a involuta e ritorna evoluta a capire la connessione tra il divino con la parte divina con il divino che ognuno lo può chiamare come vuole il ciclo temporale l'universo ha un sistema ciclico e anche all'interno di una comunità di una famiglia di un'istituzione ci deve essere un sistema ciclico non a scalini non gerarchico ma ciclico quindi se un percorso sento che mi crea disagio se una situazione un contesto mi crea un disagio proprio per non cadere in sistemi rigidi dove poi i sensi di colpa aumentano la mia autostima scende in basso il mio autorispetto proprio non lo vedo più ho bisogno di fermarmi e di osservare me stessa quindi adesso ci sono tre riflessioni che io ho preparato che sono importanti per incominciare a fare un piccolo lavoro per far lavorare un po' l'intelletto su questi tre aspetti primo allora cosa significa per me quindi posso riuscire a uscire dai ruoli prestabiliti pur mantenendo un senso di comune sostegno nei bisogni essenziali di ognuno cosa vuol dire? uscire dai ruoli vuol dire non classificare né gli altri né me in una parte prestabilita quindi posso riuscire a fuoriuscire da queste parti e non avere quindi delle pretese o delle aspettative ma nello stesso tempo riuscire ad essere capace di vedere oltre cioè vedere nell'invisibile me le mie parti interiori e così anche nell'altro e riuscire a sostenerlo perché come dire se io a te ti dico guarda ho fa ho sete e tu mi infili un pezzo di pane in bocca io muoio allora è questa capacità dell'empatia capire veramente che cosa ha bisogno l'altro e devo uscire dai ruoli perché magari dico no non aspetta a me fare questo perché tu sei il direttore perché tu sei il sistema gerarchico il più in alto oppure il più in basso e questo implica sempre un prima un lavoro verso me quindi posso riuscire a fare questo? domandiamocelo quindi all'interno di una famiglia ora è possibile valutare che c'è chiaramente un senso gerarchico e posso quindi anche riuscire a trascendere da questi ruoli e cercare di avere una fluidità circolare per abbattere le aspettative nel senso siccome tu sei padre allora io da te che mi sento figlia figlia tu padre allora ho l'aspettativa che anche se ho 80 anni 50 anni 60 anni dico 80 anni perché io ho avuto una bisnonna che ha avuto 101 anni quindi aveva il figlio che aveva 80 anni e allora riesco a togliere queste etichette e togliermi queste aspettative e fare un lavoro circolare almeno io io perché quando io ho un'aspettativa come figlia da un qualsiasi struttura gerarchica ci soffro perché ho l'aspettativa perché ho creato un ruolo ma noi siamo se noi ci vediamo tutte come anime che hanno dei corpi che stanno facendo dei ruoli ci diventa più facile io sono un'anima dentro un corpo tu sei un'anima dentro un corpo siamo qui perché abbiamo da farci da specchio da rispecchiarci e da andare avanti e può essere che siamo due opposti però se io continuo a pretendere da te perché sei figlio sei la figlia e allora devi sottostare a quello che dico io perché io sono la madre e voglio rispetto allora questo è l'ego quello è il falso sé allora sono capace a perché queste sono tutte modalità per abbandonare di combattere le forme egoiche che in questo contesto che ha strutturato questa società di ora questa epoca di ora è una struttura egoica una struttura narcisistica manipolatoria con problemi mentali caratteriali con disfunzioni caratteriali psicologiche coperte da grandi maschere di grande benessere di star bene ma non è così chi esce chi si osserva vede vede e l'altra è per abbattere le aspettative quindi sono consapevole che devo far emergere e accogliere le mie proprie ferite emozionali e guarirle lavorando sul proprio sé cosa mi serve per fare questo nello specifico per lavorare sul proprio sé qual è il sostegno che mi serve e questo io lo devo vedere personalmente la meditazione è una cosa non è sì è bello ci sono dei momenti di silenzio dei momenti in cui uno vuole stare un po' intimo con se stesso osservare sentirsi perché sentire anche i propri dolori i propri malesseri ma la meditazione vuol dire essere come sei durante e mentre fai la tua vita mentre stai facendo le tue cose mentre stai fronteggiando le tue cose mentre personalmente io vado a volte in mezzo alla natura cammino mi osservo mi distraggo magari ascolto che ne so mi attira l'attenzione cerco di entrare in un contesto ma anche semplicemente quando vai in un ufficio postale cioè mentre ascolto e vedo quello che succede lì io posso vedere all'interno di me cosa mi urta e che cosa invece riesco a gestire e quindi lì è osservare che tipo di energia sto buttando fuori che cosa sto tenendo dentro questa è la meditazione questa avere questo occhio di questa capacità che diventa poi un'attitudine un'abitudine ed essere onesti dire oggi mi sa che è meglio che non tocchi niente perché sì sono molto arrabbiata sono tremendamente arrabbiata c'è una cosa che è successa e quindi sono molto dentro ascosso di me qualcosa che so che questa energia così potente così terribile so che la posso trasformare a mio beneficio perché lì in quel dolore c'è la mia ferita in quel dolore c'è il mio ego e che ci piaccia o no è così e allora ok ho bisogno di ripararmi ho bisogno di di chiudermi un attimo e osservarmi cosa mi serve in quel momento mi serve silenzio ok decido magari abbiamo l'attitudine di parlare chiacchierare raccontare io a volte ce l'ho e allora dico in questo momento io comprendo all'interno di me stessa che è bene che io non racconti tanto perché intanto riesumo tutto 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 questo questa energia esplosiva e e sai non si sa mai che cosa può succedere no oppure la tengo troppo dentro e fisicamente posso avere anche delle reazioni proprio di malattia di malessere l'importante è che ognuno trovi il proprio metodo per buttarla fuori per osservarla e buttarla fuori vederla e io mi faccio che ne so delle grandi camminate oppure scrivo scrivo e scrivo di tutto tutto quello che mi viene in testa e poi ripulisco poi ripulisco e quando vado fuori lo stesso già magari vedere una luce diversa osservare qualcosa già che porto un po' di attenzione verso qualcosa di diverso di più bello di più reale di più pulito di più equilibrato perché la natura tende a portare un equilibrio cioè ad esserci nel suo proprio esistere la troviamo meravigliosa anche se completamente scombinata ma la sua che l'abbiamo scombinata ma nello suo squilibrio tutti questi stravolgimenti è soltanto perché sta riportandosi al suo vero equilibrio e noi siamo uguali i nostri stravolgimenti è solo per osservarci riportarci naturalmente al nostro proprio equilibrio è una cosa naturale naturale se la prendiamo così uscendo dai ruoli dalle aspettative utilizzando il distacco spirituale essere osservatori ma anche avere determinazione ascoltarmi mettere i miei paletti metterli nel modo in cui riesco cercare di non creare altri conflitti ma esprimere io esprimo e lascio andare esprimo e lascio andare ma quello che sto esprimendo è proprio perché io lo devo osservare all'interno e poi affinarlo e riportarlo in equilibrio perché magari uno è capace a parole di mandare tante frecce dolorose ma va bene che io uso la parola magari devo modellare il tono perché quando sono siamo aggressivi e perché abbiamo delle paure appunto che magari non siamo stati ascoltati prima o non siamo ascoltati vogliamo emergere quindi abbiamo paura di non essere e allora diventiamo aggressivi oppure molto duri molto rigidi e a volte anche coperti da una finta dolcezza che sono le ferite più cioè sono quelle maie che ti contornano no? e quindi questa attenzione è importante comunità famiglia e sistema questa è la cosa più importante che io vedo da equilibrare per me e penso che tutti noi che adesso vogliamo creare tante comunità tanti borghi tante cose capire a cosa sono a fine io osservo per dire sono vegetariana non posso stare in una comunità per crearmi una comunità dove mangiano carne per dire questo importante non è finalizzato ad essere tutti figli dei fiori sì io accetto te sì certo io ti accetto perché sei un'anima stai facendo il tuo percorso però il mio senso di famiglia è che io ti accetto ma non non possiamo avere cioè c'è un punto in cui tu fai il tuo sistema comunitario quindi crei il tuo sistema di famiglia e io creo il mio sistema di famiglia in modo che io possa incominciare a riportare equilibrio poi io so che l'equilibrio primordiale è che all'inizio tutte quelle anime primordiali sono sullo stesso livello sono sullo stesso linea di pensiero sono sullo stesso equilibrio quindi è uno scambio di di valori di essere dell'esistere della vita e su questo magari un'altra volta parlerò proprio dell'età dell'oro cioè dell'era in cui c'è il perfetto equilibrio come noi che è chiamato anche il paradiso in terra facciamo il paradiso in terra il paradiso è in terra non ora ma lo stiamo ricreando e perché l'anima è eterna è come una qualsiasi energia mai nasce e mai muore quindi è eterna ed è illimitata e con questo vi saluto e alla prossima al prossimo video buona serata e grazie om shanti grazie Grazie a tutti.